Sono Orveto e sto per entrare nel pozzo di San Patrizio, costruito da Antonio da Salgallo e giovane tra 1527 e il 37, per volere del Papa Medici Clemente VII, reddice del Sacco di Roma, e desideroso di tutelarsi nell'eventualità che anche Orveto venisse assediata. Fu progettato sia per fornire acqua, sia per salvaguardarsi in caso di calamità o assedio. Il pozzo, di forma cilindrica con un diametro di 13 metri e un capolavoro di ingegneria, profondo 54 metri, è stato creato scavando nel tufo. L'accesso avviene da due rampe elicolidali a senso unico, autonome e servite da due diverse porte diametralmente opposte. Per trasportare con i muli l'acqua è estratta senza ostacolarsi. Gli scalini sono 248, i finestroni 72 e una passerella sopra la vasca di fondo collega la rampa di discesa a quella di risalita. Sul fondo del pozzo il livello dell'acqua si mantiene costante, grazie a una sorgente naturale che rifornisce la cavità e a un emissario che fa defluire l'acqua in eccesso. Sull'ingresso del pozzo una scritta celebra l'ingegno umano. Ciò che non aveva dato la natura procurò l'industria. Papa Clemente VII incaricò il Cellini di coniare una moneta in onore della costruzione del pozzo, con la frase perché il popolo beva, dove è raffigurato Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia.